buona giornata amici da massimo fughetti oggi è venerdì 25 marzo 2022 questa mattina dobbiamo correre dobbiamo essere particolarmente veloci per quanto riguarda la nostra rassegna stampa come sempre poi leggeremo il resto del calino e il corriere adriatico sulle pagine locali per dare modo di collegarci con la chiesa del monastero delle benedettine sulle pendici di monte giove dove verrà trasmessa la messa in diretta questa mattina non ci sarà la messa di loreto ma dunque ci collegheremo con il monastero delle benedettine ma loreto comunque entra ugualmente nel nostro discorso perché oggi si festeggia l'evento dell'annunciazione del signore che avvenne proprio nella casa nella santa casa di loreto ovviamente quando era a nazareth è un episodio che è stato ritratto da quasi tutti i pittori più grandi dell'arte universale il momento dell'annunciazione e ciascuno l'ha fatto con la sua sensibilità con la sua capacità artistica in questa immagine vediamo un quadro del beato angelico il grande pittore del convento di san marco vediamo la sua il suo modo cromatico di dipingere appunto l'episodio con l'angelo e l'annunziata che sta per ricevere il messaggio della incarnazione altri come il grande leonardo hanno dipinto l'episodio con un senso classico composto altri ancora con un senso virtuoso con un senso molto molto veloce convulso come il 8 per esempio con il particolare del gatto spaventato ma noi privilegiamo il ritratto di antonello da messina perché antonello da messina non dipinse l'angelo ma soltanto il volto della madonna ma su quel volto è impressa tutto il timore tutta l'accoglienza tutti i sentimenti che si sono accumulati nell'animo appunto di maria nel momento dell'annunciazione un fatto veramente fondamentale per la storia della chiesa ed ora passiamo alle previsioni del tempo le previsioni del tempo vediamo che sulle marche la giornata si manterrà ancora solleggiata il tempo è asciutto i cieli saranno prevalentemente sereni le temperature massime in aumento fino a 20 21 gradi veramente la primavera ormai si sta sta prevalendo e ieri era una bellissima giornata si stava anche bene con il giubbotto slacciato con il cappotto insomma aperto siamo veramente nella buona stagione ed ora passiamo alla nostra rassegna stampa vediamo intanto vediamo che il sole è già sorto alle 6.02 tramonterà alle 18.27 e per quanto riguarda la rassegna stampa apriamo il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo come si evidenzia un grosso intervento al teatro della fortuna va in scena il risparmio si rimodula l'impianto di illuminazione solo nel 2019 il comune di fano la fondazione insomma ha speso ben 60 mila euro di luce verranno trasformati i corpi illuminanti da halogeni a led sono 80 fari che illuminano il teatro bellissimo poi lampadario che pende dal soffitto nella platea un taglio stimato per circa un terzo per quanto riguarda la spesa dunque sono 60 mila euro che verranno risparmiati in gran parte e così si riduce anche l'inquinamento luminoso però c'è anche chi non è contento perché i grillini in questo articolo di fondo pagina accusano l'amministrazione comunale di andare a rilento avrebbe dovuto accelerare i tempi per quanto riguarda la sostituzione delle lampadine con quelle a basso consumo già a 13 anni fa dicono i grillini proponemmo di installare il fotovoltaico sugli edifici comunali nulla è stato fatto in questo tempo e c'è anche un così un rimbrotto per quanto riguarda il consigliere comunale a cui il sindaco ha affidato il settore il consigliere cora fattori per i profughi ucraini 50 posti nelle strutture dislocate in nove comuni e si tratta di posti che verranno che sono stati assegnati a villa san viaggio 22 e poi ancora nella comunità di del don orione che insomma ospita queste persone giunte scampate dalla guerra streghe e misteri sopra e sotto la piazza è un articolo che riguarda le giornate di primavera organizzate dal fai per quanto riguarda la città di fano ieri sono state presentate dalla responsabile della delegazione fanese anna sicoli con le sue collaboratrici vediamo qui rossella tecchi e maura garofoli giornate fai alla scoperta del centro storico di fano si visiterà la piazza la piazza la vedono tutti la conoscono tutti ma non tutti sanno tutto quello che c'è in questa piazza la storia dei palazzi dei monumenti delle opere d'arte e sarà interessante scoprirlo grazie all'intervento di 200 ragazzi 200 studenti del scuole medie e superiori della città di fano i quali sono apprendisti ciceroni ed illustreranno veramente tutto il retroscena di quello che c'è sopra e sotto la piazza sotto abbiamo la domus del palazzo della abbazia abbiamo i mosaici che sono sotto il teatro della fortuna ma abbiamo soprattutto quello che è emerso dalle introspezioni effettuate con il georadar recentemente che verranno illustrate tramite delle slides alla memo alla medioteca montanari nelle giornate di sabato domenica a partire dalle 15 e 30 insomma iniziative importanti e curiose che possono attrarre tanto i fanesi quanto i turisti e il fai proprio prevede l'arrivo di molte persone che giungeranno da fuori e visiteranno un po' tutte le località a tempo permettendo che propongono le loro bellezze. Viale Alighieri la rivolta camminiamo tra le auto un argomento che ogni tanto viene alla ribalta nei giornali sono i residenti che sollecitano l'amministrazione comunale a prendere provvedimenti per tutelare il transito dei pedoni viale Alighieri è il viale parallelo a viale adriatico nella zona di Sassonia una via molto trafficata per un certo tratto anche in entrambi i sensi e soprattutto è trafficata anche dai mezzi pesanti che vengono a rifornire lo stabilimento dell'accopromo il nuovo stabilimento realizzato in zona portuale e quindi vogliono delle zone protette allo stesso tempo non vogliono che si eliminino i parcheggi. Insomma una convivenza non facile per l'amministrazione comunale comunque i tempi devono essere accelerati. Ed ora passiamo a Pergola dove si parla di vaccini. Lab dice stop dopo quattro mesi domani sarà l'ultima giornata del centro di via del Mulino. Ha inoculato finora 4.368 dosi i contagi della Val Cesano quasi il più 50 per cento in 14 giorni. I contagi stanno aumentando un po' in tutte le località delle Marche come in tutta Italia. Comunque questo dato più 50 per cento insomma è considerevole e quindi c'è l'invito a fare attenzione a usare sempre le precauzioni soprattutto nei luoghi chiusi. A scuola in bici o a piedi la scelta di 50 alunni a Marotta. Un'esperienza promossa dalla FIAB. L'assessore Tiritello momento di festa e faremo anche un bis per quanto riguarda l'iniziativa di sensibilizzazione con l'uso della bicicletta. Urbino è in lutto. Urbino è in lutto per la morte di Marco Pivato che è il figlio dell'ex magnifico rettore. Era un giornalista e scrittore, viveva a Trieste e precipitato dal quinto piano di un albergo in questa città. Purtroppo da quanto si apprende non si sarebbe trattato di un incidente. Comunque sia è una tragedia. Urbino è sconvolta per quello che è accaduto a questo giovane. Aveva solo 42 anni. Il dramma si è consumato l'altra sera appunto a Trieste dove lui viveva da alcuni anni. Era giornalista, figlio di Stefano, ex assessore alla cultura di Rimini ed ex magnifico rettore dell'università di Urbino. Marco è precipitato appunto dal quinto piano di un albergo. Anche Urbino comunque partecipa alle giornate del FAI come le maggiori località turistiche della nostra provincia. A Urbino si comincerà alle 11.15 di domani con la visita alla collezione di Mario Logli nell'Aula Magna della Università, visitabile ogni sabato mattina fino a ottobre. E poi durante il fine settimana con il contributo delle volontari della Proloco l'Ateneo aprirà alle visite anche Palazzo Albani, il suo Museo dei Gessi, il complesso di San Girolamo e l'Orto Botanico. A Canavaccio l'appuntamento è alla Pieve di Santo Stefano di Gaifa. Tra gli eventi a Fossombrone si cela passeggiata per il Centro Storico con la guida degli studenti del Liceo Laurana di Urbino. A Cagli invece con la collaborazione del Comune, scusate, con la Commissione Europea, gli studenti del plesso del Torelli e lo storico dell'arte Alberto Mazzacchera guideranno visite alla Rocca di Federico da Montefeltro con il recentemente restaurato Soccorso Coverto, insomma quel grande corridoio che collegava il Torione Basso dalla Rocca sul Colle di Cagli. Insomma delle località veramente interessanti da vedere. All'Amoli protagonista sarà l'Abbazia di San Michele Arcangelo, un bellissimo monumento degli inizi degli anni 1000. Giriamo ancora la pagina, abbiamo qui il ricordo di due personaggi importanti del nostro territorio. Ricordare Tagliolini, una marea di messaggi a distanza di settimane dalla prematura scomparsa di questo uomo politico. Sono molti che continuano a inviare ricordi sull'uomo e sul politico. E poi a Fermignano una via sarà intitolata a Davide Sassoli, insomma il grande esponente del Parlamento europeo. Fermignano ricorda l'uomo e il politico. Oggi alle 15, alle ore 18, il Comune firmirà il Consiglio l'impegno di dedicargli l'area che sorgerà nei pressi della scuola primaria. E poi dopo l'incidente col trattore, si è ribaltato, Busetto dice basta. Lo dice al Presidente nazionale della sua associazione di categoria. Lui si dimette, lascia la presidenza provinciale della Confederazione Italiana Liberi Agricoltori. Dice mi sono cappottato dieci volte con il trattore a causa dei danni provocati dai cinghiali. Ora è il momento di dire basta, non ne posso più. Ha fatto veramente una vita di battaglie per cercare di razionalizzare la presenza dei predatori con il lavoro dei campi. A questo punto dice basta, insomma, non è che rimane sconfitto, però è un ulteriore segno di protesta nei confronti della lentezza delle istituzioni. Passiamo ora alla pagina di Pesaro del resto del Carlino. La guerra mette a rischio le nostre fabbriche e la CNA che insorge con Moreno Bordoni, segretario provinciale dell'Associazione di Categoria. Anche noi subiamo gli effetti di questa guerra tra la Russia e l'Ucraina perché le sanzioni penalizzano anche le nostre aziende e le aziende sono in ginocchio. Il caso simbolo, il 90% del nostro export in Russia, insomma, soffre in questo momento. Ne parla il titolare delle creazioni Antonella di Villa Fastigi che racconta gli effetti del conflitto sulle attività, sulla sua attività, ma anche sulle attività dello stesso genere di produzione. Ricci, profughi, fondi per i comuni e Pesaro adotterà la città di Kharkiv. Il sindaco chiede aiuti per l'accoglienza, il modello è quello di buone spesa usati per il Covid. E poi propone gemellaggi di solidarietà, imprese con cittadini benestantici aiutano, ha detto il sindaco. Soprattutto si tratta di un appello rivolto al governo. Il governo dovrebbe istituire un fondo speciale da dare subito ai comuni per le famiglie che accolgono i profughi, perché non solo i comuni devono essere aiutati, ma anche le famiglie, che mettono a disposizione i loro ambienti, i loro appartamenti, i loro locali per aiutare queste persone in difficoltà. Noi volontari per gli ucraini, ma ora i politici siano d'esempio. C'è anche chi propone che i politici debbano dare parte del loro stipendio per aiutare i profughi. Lo dice Erminia Borzi che ha aperto la sua casa alle persone che hanno abbandonato il loro paese. Bandiera, stelle e strisce, come benvenuto al porto sbarcati i primi turisti americani. Insomma, le avanguardie cominciano a arrivare, ma questo è un caso molto particolare, perché si tratta di una motonave che ha a bordo i reduci del Vietnam. Sono reduci che conoscono la nostra penisola, la nostra Italia, però vogliono visitare i luoghi un po' al di fuori dei classici tour organizzati nelle città d'arte, Venezia, Napoli, Firenze, Roma, eccetera. E Pesaro rientra in una di queste. E poi ci saranno altre iniziative. A luglio arriva un vegliero lungo 130 metri, lo annuncia Paolo Gorini. Poi vediamo un articolo di cronaca. Carambola alcolica, devastate quattro macchine, un pesarese alticcio, è stato poi sottoposto all'alcol test e denunciato per guida in stato di ebrezza, ha sbandato in via Faggi e ha colpito i mezzi parcheggiati. Quattro auto, danni per diverse migliaia di euro. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri. Apriamo ora il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo come l'apertura è dedicata all'accoglienza, all'accoglienza dei profughi. C'è stato un accordo d'ambito per 50 profughi ucraini in città, ancora si tratta di poche decine, insomma, e sono stati sottoscritti patti di sussidiarietà per quelli già accolti. L'intesa pilota è stata sottoscritta dai nuovi comuni dell'ambito sociale numero 6 e sarà sottoposta alla Prefettura, coinvolti anche gli enti del terzo settore. Illuminazione pubblica è efficientemente a rilento, tante risorse sprecate, lo dicono i 5 Stelle, che accusano l'operato dell'amministrazione comunale in fatto di illuminazione pubblica. E poi si parla dei ritardo dei lavori che caratterizzano il restauro della passeggiata, la ristrutturazione della passeggiata che dalla darsena borghese porta fino al ponte della ferrovia. Lavori fermi da un anno per la morte del titolare dell'impresa che avrebbe dovuto eseguirli. Sì, insomma, ovviamente questa disgrazia è di tutto rispetto, merita tutto il rispetto, però un anno di ritardo, insomma, si sta un po' esagerando ed ecco perché si preme, perché i lavori riprendano al più presto. E poi anche sul Corriere Adriatico si parla del FAI, dei misteri di Piazza 20 Settembre. Con il FAI la visita sarà sopra e sotto, verranno illustrati i resti nei sotterranei dei palazzi storici e le indagini con il Geo Radar, quindi due punti focali per il FAI sabato e domenica a Fano, la Piazza 20 Settembre e la Memoteca Montanari. E poi si parla di fiscalizzazione degli abusi edilizi, che ha commesso degli abusi parziali, diciamo così, per quanto riguarda la realizzazione di immobili, non sarà più costretto a demolirle quello che ha fatto, ma potrà sanare la sua situazione pagando una ammenda, una multa. E appunto ci sono novità a questo proposito che sono state oggetto di una determina del dirigente del settore urbanistica di Fano, Adriano Giangolini. Per quelli che possono essere abbattuti consente la stipula di compravendita, insomma, prima non si poteva fare. E poi a Fossombrone si parla di Bianchetto, di questo tartufo plegiato che costituisce una risorsa economica considerevole. Il tartufo Bianchetto c'è una stagione eccezionale. Il direttore Cristini esibisce le pepite, il progetto turismo presentato con Enit. E a questo proposito dobbiamo dire un po' come le valutazioni sono discordanti, perché insomma un giorno si dice che il bianchetto è scarso, l'altro giorno si dice che il bianchetto c'è, insomma uno corre a rimedio per quanto riguarda l'altro, comunque i prezzi sono quelli che poi si trovano dai rivenditori. A Mondolfo il Comune decide per la ciclabile un nuovo percorso fuoristrada e ha ottenuto la bandiera gialla dalla FIAB. Proseguono intanto le politiche bike friendly con l'area dedicata. L'amministrazione comunale mondolfese si è confermata per il quarto anno consecutivo comune ciclabile, ottenendo dalla FIAB l'importante riconoscimento della bandiera gialla grazie agli interventi nel settore della mobilità sostenibile. Vediamo anche la pagina di Senigallia. Il Caterraduno ormai è un ricordo, il sindaco comunque pronta a un'alternativa. Il cartellone è da definire, gli albergatori chiedono di rivedere il percorso Ximaster che blocca il traffico, un percorso da rivedere perché in realtà non è congeniale alla ristrutturazione della viabilità di Senigallia. E poi riapre il parcheggio dell'exit al cementi. Da ieri a domenica sosta consentita ai partecipanti alle regate. Da giugno torna accessibile a tutti questa importante area di sosta. E vediamo anche la pagina di Pesaro del Corriere Adriatico, dove si continua a parlare degli effetti dei rincari determinati appunto dagli aumenti dei beni di prima necessità, delle materie prime, innanzitutto i carburanti, quindi che incidono sui trasporti in tutti i settori della vita. Non solo i rincari, pure i ritardi e anche ordini contingentati. Un'altra ondata si sta battendo sui consumatori. I settori maggiormente colpiti sono quelli della ristorazione, il catering, alberghi e le mense. I prodotti interessati sono il settore della macelleria, il pollame, salumi, suggelati, olio di semi, di girasole, mais e soia. Soprattutto questo poi non si trova nemmeno negli scaffali. E poi hanno subito aumenti uova e la pasta. La pasta d'accordo perché il grano è aumentato, ma le uova. Le uova, insomma, perché le galline devono fare meno uova che sia la guerra? Certo in Ucraina sì, ovviamente saranno spaventate anche loro, ma nelle altre nazioni non si sa. Punto interrogativo. Decreto autotrasporto, pace fatta sui rimborsi, testo corretto, saranno premiati i mezzi più ecologici. Salvo dunque in corner il decreto legge del 21 marzo sulle misure urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina. Il governo ha riconvocato ieri il tavolo dell'autotrasporto e quindi si sono assunti provvedimenti che sembrano soddisfare gli operatori che guidano appunto i grandi tir. E poi qui ci fermiamo un attimo per considerare questo articolo. Mi dimetto da Marche Nord la crisi ormai è irresolubile. Parla così Umberto Gnudi, ex responsabile del settore pronto soccorso di Marche Nord, insomma era responsabile del pronto soccorso sia di Pesaro che di Fano. è stato sostituito, è stato sostituito, tutti crediamo per le sue dichiarazioni critiche nei confronti della direzione per quanto riguarda il sostegno dato a questo reparto nei momenti più drammatici della pandemia. Umberto Gnudi, ex direttore del pronto soccorso, ha comunicato ieri all'ufficio del personale dell'azienda la sua decisione. Vado via, vado via da Marche Nord, la direzione non ha più fiducia in me. Nell'ultima riunione molti dissero che restavano solo perché c'ero io. In questa tabella vengono evidenziate le tappe dello strappo, del distacco da questo professionista e dalla direzione. C'è un'intervista che viene fatta appunto al medico. Cosa pensa che abbia cambiato l'atteggiamento della direzione? Dice Gnudi. Non lo so, non credo che ciò possa essere imputato a un peggioramento della qualità del lavoro, non lo crede nessuno. Una volta che mi sono dato questa risposta il resto è al di fuori del mio controllo. Ma tutto lascia supporre che la divisione sia dovuto appunto alle sue dichiarazioni. Nessun commento a questo proposito. Emergenza Cyberg Attack, il 64% delle aziende derubate dai propri dati e qui vediamo come le aziende vengono colpite anche dai attacchi virali. Chiudiamo il giornale, era l'ultima notizia, ora lasciamo spazio per collegarci con il colle di Montegiove per la messa al Monastero delle Benedettine. Intanto vi auguro buona giornata e ci risentiamo domani. A risentirci.